il maresciallo ha l'appuntato dice appuntato sul rapporto di ieri manca il numero della volante che dobbiamo fare? dice maresciallo questo numero della volante proprio non me lo ricordo è più forte di me non me lo riesco a ricordare dice appuntato c'è problema 5 giorni le consegne se ricordi che lei ha la volante 28 se lo metta bene in testa 28 vada vada ora dopo qualche giorno il maresciallo richiama l'appuntato e dice appuntato ieri stavate le pattuglie dice signor si maresciallo e avete fatto rapporto? certamente maresciallo e il numero della volante appuntato avrei una giacca dentro 5 spilli riguarda fa 28 diciamo ricordare 5 spilli 5 giorni le consegne dice no maresciallo questa è l'associazione dei dei muovi spiegano spilli spilli ago ago filo filo seta seta bago bago farfalla farfalla fiore fiore vespa vespa vespucci vespucci americo america america negli occhi cicalo cicalo cibiscio cibiscio vada vada le curo curo bucio le curo bucio le curo fortuna fortuna 23 24 25 26 27 28 no maresciallo